Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video E oggi c'è il ritorno ragazzi Il ritorno Dopo tanto tempo Non un boccivito perché non ho fatto tanti da quel tempo Però ragazzi, due mesi fa Hai potuto avere Fortnite? No, 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 un po' più di mesi fa Hai potuto avere Fortnite Che cosa avevo? Per fare il video C'è un gioco vicino a Fortnite Credo ragazzi che voi ricordate tutti Già dalla schermata Qua destra Qua destra Pensi ragazzi Creative Destruction Advents Creative Destruction Ragazzi, me lo sono installato E oggi voglio fare il suor ritorno Ragazzi, ci giochiamo su Creative Destruction Comunque ragazzi, vi ricordo di lasciare il like Che non vi dimenticate Perché ragazzi Non so come ringraziarvi Io ho visto Sabato E siamo subito entrati Verso Siamo subito andati Dalle 83-84 Ai 86 iscritti Oggi, 15 pomeriggio Sono andato 88 E ora sono andato di nuovo a rivedere Il mio canale 89 iscritti Ragazzi, ce la facciamo ad arrivare A 90 Le mancano 81 Mi raccomando Sono vi dimenticate Il video Ho trovato la storia E ragazzi Ha raggiunto le 5.000 visualizzazioni In caso C'è una pubblicità che vi piace Prendere il video Non la saltate Casi mai Vabbè ragazzi Guardate qua C'è Qua a destra C'è Qua a destra C'è da dei soldi E si spostano delle camere C'è il mio nome E ovviamente Ragazzi C'è un Quello Di tanto tempo In più Quindi ragazzi Stiamo a vedere E' diventato Il pass Ah si Armi Ciacchini Io sono ancora Di valutare Purtroppo Le missioni Andiamo a vedere Un po' Le missioni Scusate Missioni Settimana 1 Aggiuti 10 amici Entra A far parte Di una gilla Di una gilla Possiedi Un compagno Bu Ragazzi Che vi posso dire Io Direi di andare Con una partita Ragazzi Perché Non gioco Non gioco Un po' Di tempo Io non gioco Non ho fatto Qualche partita Per ricordarmi un po' Come si è provato Ho fatto Già Bell 3 kill C'è Io Sono creato Di distraction La prima partita Ragazzi La prima 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 Non di questo Qua Ma la mia prima Prima Ragazzi Ho fatto Vittoria Al royale La prima Ve lo giuro Ve lo giuro Ve lo Giuro Ve lo sto Giurando Non scherzo Non scherzo Giuro Che sarebbe Le foto La panteria Vabbè La mia città Preferita Parco Del Leone Adoro Un botto Ci vedo Su tre partita Io ci vedo Sempre Il parco Del Leone Oppure Prima E come vedete A destra A destra A destra A destra A destra Ci sono Ci sono Cento Quanti ce ne sono A fortnite A fortnite 99 Mi ricordo Comunque Se ci buttiamo Non era Che su Credito Ci si A buttare Dopo Invece A fortnite Prima Infatti Ci buttiamo Io ormai Sono abituato A comprare Il sale Quindi Due stick Non me lo ricordavo Così Comunque Ragazzi Vi ricordo Di lasciare un like Se mi avete criticato Bel commento Anche se non Li posso Vedere Perché Youtube Mi sta facendo Degli scherzi Incredibili Voi non potete Crederci Ma comunque Vi raccomando Iscrivete Il canale E basta Se non Vi scocciate Di Davvero E basta Voglio dirci Sempre stessa cosa Ci stai Scocciando Veramente Il problema Ragazzi È che A me Bugga Abbastanza Non so Lo scendere Perché Andiamoci Un po' Di materiale Intanto Oh Luzie Non è un Schifoso Pure questa Ragazzi Una volta Ho fatto La partita Soltanto Quella verde Che ho preso Appena ora Però Ragazzi Io lo Adoro Lo adoro Lo adoro Per me L'uso Ragazzi Perfetto Non c'è Ragazzi Non c'è Non c'è Non c'è Non lontano Amici Amici Mi sono Dimenticato Perfetto Ragazzi Per me Fare video È bello Però Mi annoio Certe volte Perché non è Divertentissimo Perché devi fare video Perché Oh Gli altri Guardano Sempre Sì Sì Non li sto Portando Ma perché Non ne fai Di più Perché non ne fai Di più Una parola Perne di più Io le compito Ciò Vado a fare di voi Non è per dirvi Mi stanno sparando Eccolo 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 No No 96 Di vita Boh Tiro la granata Che ne so io Non so nemmeno Cosa sto facendo Ok Morta Morta Per fortuna Fortuna Deve stare Non sono dei passi Ci sono dei passi Qualcuno Mi sta sparando Eccolo L'ho visto Ho tolto 10 Un schienzo Un po' 10 40 Mamma mia 13 13 Ho ancora di vita Gli ho tolto Gli sto togliendo un voto Eccolo Ok Ok Mi sono fatto una kill Siamo in zona Buona Non è mai Buona Carro E la mazza La voglio Cioè Guarda che bella Ma che bella Ciò può non serve Ciò può non serve Ciò può non serve Ciò può non serve Bellissimo Un amica Ciò può Allora Il mio ragazzino Ti lascio Vediamo Un cecchino Non è male Il cecchino Mi adoro abbastanza Non so neanche perché partecipo Ma dov'è tenuto il tuo entusiasmo Non avevi detto Che volevi dare il massimo E questo è lo spirito Delle popole in via Sì Hai ragione Grazie Allora sarà meglio Riprendere gli allenamenti Uno scarro Una mazza bellissimo Sembra appena scioppata Anche da non è scioppata Grazie No Volevo vedere il video Guarda quanto stavo Non me lo dò Non cotto Mannaggia No Basta Che bello Bellissimo Bellissimo Ho contato la zona Devevi darci un po' In save Listo 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 il problema ragazzi è che non ho il pompa 29 non è ucciso mamma mia è ucciso si 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 invece non sto nemmeno da dove il pompa mamma mia non ce la faccio più 25 di vita guardi 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 mamma mia ragazzi non me lo sto immaginando il pezzo che non trova la mia vera ragazzi ci guardiamo un bel po ti prendiamo ancora 85 ma la faccio perché no mamma mia ragazzi stanno facendo spaventare un po' lo sguro mannaggia a volte è meglio intanto vediamo ci siamo in 50 su caldi di destra ce ne muoiono pochissimo sto girando stiamo ancora in 49 ma l'ho fortuna stiamo già un bel po' stiamo 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 in ragazzi se non sto parlando devo troppo concentrato devo troppo devo troppo impegnarmi devo essere troppo impegnato sennò ce la faccio oh grazie io farò anche challenge ormai sono fortunate che c'erò e farò non so ragazzi sto ridendo ma questo coscino ci sta parlando sto facendo almeno il video boh aiutatemi ahhh ho presa e non sa quanto tempo resisterà così sono 45 però ho detto muoio nel pochissimo guarda qua troppo canteremo tutto contro la partita dovrei fare la posizione sembra di vincere ma però sempre e per sempre vedo l'altro scherzo sperando così mannaggia ora sei kill difficile non vi ricordavo così mi ricordavo molto peggio ma che mangia la ciambella ciambella grazie a questo video che stai facendo qualche se non vi piace il tuo video sarà che c'è un bastone che me lo dite sono 25 secondi rimasti wow la prima challenge ragazzi che vorrò fare su fortuna o su brevo start o su credit stack sempre se volete e sarà solo c'è spuglia c'è un'altra c'è spuglia tutto il tempo non c'è spuglia tutto il tempo la maggior parte sono inizio ora ci faccio così guarda questa eccomi ma pronto sento allora si stia anche il fatto non ci posso fare niente ragazzi lo giuro non ci posso fare niente se mi sto impegnando la natura è mostravigliosa ma che si scriveranno dobbiamo avere pazienza lo faranno al momento giusto sono il 13 13 ragazzi sarà vittorone bravo adesso venite qui mostrici wingy il tuo papà ha chiamato per avvertirci che farà un po' tardi perché ritardo il papà di wingy è un postino e credo che abbia una consegna importante da fare ora siamo in 12 12 mi sto spaventata perché questo qua non la devo vincere non la devo vincere deve essere vittorale io con il pubblico ragazzi siamo bravo magari che ci sono 10 ci sono solo ragazzi io spero che ce lo faccio spero spero in tutte quante parti non viagli ho visto uno se vuoi no guarda ho visto uno però con il cecchino se ce lo faccio ho visto un altro adesso andiamo a avere un bel matrullato per favore che avete permesso oh sì lo faccio andiamo un mio mostriciattolo ciali inghiaccio 21 ragazzi ottavo ottavo io me la voglio finire di vedere la partita potevo vincerla sono stato stupido e non me l'avevamo finita non ci avevo fatta non esistono con la mia be ragazzi oh buono be ragazzi questo video qui spero che vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel progetto in su iscrivetevi al canale attivatevi per la notifica se no non mi arriva nei video sempre se vi piacciono iscrivetevi ai commenti se volete anche altri video di che tipo li volete fortnite oppure tutti e tre se volete pure minecraft ve lo porterò lo stesso e quindi bella io vi ricordo sempre tutto quanto la cosa che ho detto prima buona giornata buona settimana buona vita ecco ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao